bene ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti un nuovo video oggi ragazzi vi voglio parlare come avete visto da titolo di un prodotto shimano un prodotto shimano che è uscito circa un anno un anno e mezzo fa non abbiamo fatto ancora la recensione no non l'abbiamo ancora fatta per motivi che vi vado a elencare è arrivato il prodotto appena nuovo l'abbiamo terminato subito poi abbiamo aspettato un pochino è ritornato di nuovo presente ma l'abbiamo di nuovo terminato e non abbiamo mai fatto in tempo a fare questa recensione la faccio oggi perché rimane indietro una delle recensioni che più richiesta di questo mulinello vi sto parlando del twin power xd di shimano è giunto quindi il momento di andarlo a vedere da vicino rimanete con noi per le considerazioni finali voglio solo dire una cosa è un oggetto che rimane al centro di due dinamiche nel mondo mulinelli shimano come dico sempre io le cose centrali solitamente non sono né carne né pesce in questo caso devo dire che questo xd lo era nei modelli precedenti lo è ancora adesso secondo mio punto di vista è il mulinello al centro veramente azzeccato un po' per tutte le tipologie di pesca ci vediamo dopo per le mie considerazioni finali ora andiamo a vedere da vicino bene partiamo come di consueto dalla scatola di questo twin power quindi twin power alla scritta xd vi sto facendo vedere la misura 5000 compact xg quindi la misura della serie che ha la più alta velocità che è pari a 6 2 a 1 vi faccio vedere anche i lati di questa scatola dove però non troviamo purtroppo devo dire quelli che sono i riassunti appunto di quello che è all'interno di questo mulinello mi dispiace un po' che manchino questi questi riferimenti sulla scatola ma ora ve li vado a raccontare senza nessun problema all'interno della scatola troviamo chiaramente lo spaccato sempre da tenere il bugiardino con le istruzioni eccetera eccetera troviamo la nostra manetta che vi dico già essere con un knob super sportivo accattivante in alluminio e troviamo dentro la scatola ben protetto il nostro mulinello poi concludendo quello che c'è all'interno della scatola troviamo i dischi che vanno poi chiaramente a variare l'imbobinamento del nostro mulinello e troviamo anche pure essendo semplice una comoda e simpatica custodia in stoffa con il suo cordino per poterla chiudere marchiata shimano il resto della scatola rimane comunque vuoto mentre vado ad aprire la manetta vi voglio raccontare questo quello che non abbiamo trovato appunto sulla scatola del nostro mulinello quindi vi devo dire che questa taglia 5000 è un mulinello che pesa 245 grammi ha una velocità di recupero 6 2 a 1 a ogni giro di manovella completo recupera 101 centimetri questi sono i dati che ci dà shimano e ha un 10 cuscinetti più 1 ora ve lo lascio parcheggiato qua un secondo così lo potete ammirare guardate questo bel colore blu cangiante spero che possa un po apparire in video è quasi un arcobaleno quando chiamo questo colore mi piace devo dire che il blu non è un colore che a me fa impazzire ma visto con questo argento satinato lucido mi piace molto dà un qualche cosa di racing chiaramente la manetta devo dire un'opera d'arte fatta estremamente bene con la sua guarnizione il suo cursore che esce e entra vedete che qua abbiamo il doppio filetto per fare la manovella destra sinistra eccolo qua chiaramente manetta in pezzo unico knob che gira su cuscinetto un knob che a me piace moltissimo perché ha rivestimento esterno in eva molto molto duro la dimensione giusta per questo 5000 troviamo la vite da questa parte che ci permette di poterla smontare e fare eventualmente anche la lubrificazione e da questa parte abbiamo il nostro mulinello che vi voglio fare vedere come di consueto in tutte le sue quattro facce raccontandovi che il corpo di questo mulinello è un corpo agane quindi per dare il massimo di quella che è la resistenza alla flessione anche di questo oggetto la prima sensazione è che è sicuramente un mulinello leggero non si direbbe che è un mulinello che conserva anche un'alta un'alta riserva di potenza vedete anche questa grossa farfalla che copre i nostri dischi della bobina vi devo dire in carbonio in questo caso mentre andiamo ad avvitare questa meravigliosa devo dire manetta con un filetto estremamente preciso veramente preciso vi dicevo la mia sensazione è quella di maneggiare un mulinello che non è tra i più potenti che si maneggiano ma invece mi devo ricredere nel momento in cui lo vado a fare ruotare fluidità estrema di questo oggetto e soprattutto si capisce quella che è la durezza di questo oggetto intanto dalla freddezza del materiale ma quello anche che sono le flessioni pensate che il connubio di questo mulinello quindi la flessione di questo e la rotazione così fluida di questo mulinello devo dire innanzitutto uno dei più fluidi che io abbia girato di casa shimano assolutamente e anche grazie al fatto che il corpo è molto rigido e questo rotore completamente di nuova generazione è in ca4 quindi assolutamente leggero un archetto semplice ma con uno scatto decisamente interessante uno scatto in automatismo veramente preciso non bisogna fare nessun tipo di fatica per chiudere l'archetto in automatico anche se io è una cosa che non faccio andiamo ad aprire la nostra frizione per andare a vedere un po che cosa ci racconta appunto questo questa questa questo tappo così molto grande che fa così fatica a uscire fuori troviamo sotto il tappo la nostra guarnizione che va comunque a non permettere alle cose esterne di poter entrare andare dal fastidio ai dischi della nostra frizione vi voglio fare vedere la bobina una bobina devo dire ultra leggera chiaramente concezione inutile che stiamo sempre qua a ripetere le stesse cose di shimano quindi bobina molto alta per dare la massima fluidità devo dire una bobina fatta molto 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 bene dischi in carbonio contenuti all'interno bella la rifinitura ci sono anche dei piccoli forellini che vanno a diciamo ad alleggerire e sicuramente in parte estetica anche a migliorare questo mulinello queste scanalature fatte molto bene in questo argento satinato nella parte sottostante le cose che ci interessano devo dire una lavorazione perfetta sulle bobine shimano ha sempre una lavorazione veramente estrema è leggerissima ragazzi questa bobina è leggerissima la sottotroviamo addirittura spero che si possano vedere degli scassi che la vanno ad alleggerire mantenendone sempre un'alta alta resistenza troviamo la nostra cicalina tenuta da una vite che ci permette quindi di poterla andare a cambiare senza nessun problema da questa parte abbiamo il nostro line clip vi faccio vedere anche visto che siamo in ravvicinata vi faccio vedere anche l'alberino giusto proporzionato anzi forse anche sovradimensionato per una taglia 5000 di questo collocamento un rotore veramente piccolo perché questo è piccolo con la nostra famosa ormai svasatura che troviamo anche nel twin power fd che permette appunto un sacco di cose e ci viene in aiuto per un sacco di cose troviamo anche la nostra rondella che fa suonare la nostra frizione i nostri dischi sentiamo come suona la nostra frizione ve lo faccio vedere anche così non ve l'ho fatto vedere ecco così almeno potete anche vedere l'interno del nostro rotore andiamo a montare la nostra la nostra bobina un buon suono di frizione assolutamente una frizione che vi dico già perché io chiaramente ho già provato questo mulinello una frizione che è veramente molto lunga nella chiusura quindi diciamo che è tutto tranne che un instant drag ma su questo mulinello ci sta proprio perché come vi dicevo all'inizio del video trovo questo mulinello un oggetto adatto per fare molte cose non solo pesche violente anche se il suo il suo il suo input iniziale proprio quello di fare uno spinning in mare da terra ma non solo perché qua viene molto molto discursa questo discorso della pesca da terra ma poi ne parliamo nelle mie considerazioni finali se non andiamo troppo avanti e vi dicevo un una bella rifinitura viti torx ovunque da questa parte sul nostro archetto dove abbiamo la parte che è di molla e di diciamo di chiusura automatica all'interno quindi dal lato opposto del nostro guida filo altra cosa abbastanza diciamo particolare e quindi torx in questo caso non viti a stella troviamo nostro culetto con lo sfiato per far uscire eventualmente le l'acqua dall'interno e troviamo chiaramente da questa parte molti di voi so che si lamentano di questa cosa ma su questi mulinelli ci sta assolutamente tutto troviamo l'anti ritorno che è quindi il mulinello che è privo dell'anti ritorno della leva dell'anti ritorno infinito voglio in questa inquadratura dire la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto oltre all'estetica che avete capito che c'è tutta assolutamente la cosa che mi è piaciuta di più è la fluidità di questo oggetto credo di poter dire che questo è uno dei mulinelli della shimano che ha più fluidità di quelli che io abbia mai diciamo provato quindi la fluidità di questo mulinello è veramente importante andiamo alle mie considerazioni finali siamo giunti alla parte che mi piace di più delle mie recensioni quindi le conclusioni e le considerazioni finali allora faccio subito la prima considerazione shimano colloca questo twin power xd tra due grosse famiglie tra due colossi quindi fra i mulinelli leggeri per pesche medio leggere e mulinelli pesanti per pesche extra pesanti arriva lui il twin power xd in effetti il peso è più destinato ai mulinelli leggeri la meccanica la fluidità la potenza i dischi della frizione tutte queste cose sono più da collocare forse per un oggetto medio potente è un giusto compromesso io all'inizio del video vi ho detto solitamente in tutte le cose nelle automobili nelle biciclette in qualsiasi cosa le vie di mezzo non sono mai cose estremamente interessanti perché si va proprio nella via di mezzo in questo caso vi devo dire no in questo caso vi devo dire che questo oggetto si colloca al centro delle due cose e non fa mancare chiaramente nelle varie tipologie di pesca per cui ho collocato questo oggetto non viene a far mancare il mulinello estremamente leggero che costa molto di più e fa capire soprattutto che pagando un qualcosina di più si ha qualcosa in mano insomma voglio dire che questo nella gamma shimano secondo me è uno tra i mulinelli che ha il rapporto qualità prezzo migliore pur non essendo assolutamente un mulinello economico perché ad esempio lo trovate linkato qua sotto in descrizione a un prezzo che si aggira intorno ai 400 euro le misure di questo oggetto che sono 3.000 4.000 5.000 sono anch'esse da valutare secondo il mio punto di vista se uno lo compra per lo spinning questo 5.000 non ha bisogno di rivali 4.000 3.000 o 6.000 l'oggetto giusto è il 5.000 buona capacità di bobina un'ottima frizione un giusto rapporto peso un corpo molto compatto la taglia secondo me è il 5.000 chiaramente vengono menzionate da moltissime persone visto che non è uscito proprio ieri questo oggetto moltissimo le pesca spinning e giustamente questo mulinello che si colloca nella fascia nella famiglia dei mulinelli da spinning ma attenzione non ci dimentichiamo altre tecniche altre tecniche dove abbiamo bisogno di un oggetto medio leggero ma abbastanza potente e qui potremmo aprire veramente un discorso che potrebbe durare tre o quattro recensioni tranquillamente quindi passiamo oltre insomma quello che voglio dire che questa via di mezzo è una via di mezzo secondo me centrata effettivamente veramente centrata un oggetto che viene raccontato per essere un oggetto per lo spinning da terra secondo me in parte anche sbagliando perché dipende intanto bisogna vedere intanto in che posti d'italia o nel mondo d'europa si fa appunto lo spinning sicuramente per lo spinning da terra sfondiamo una porta aperta quindi spingo la serra barracuda senza nessun tipo di paura qualche pesce azzurro ma non ci dobbiamo dimenticare dello spinning dalla barca perché attenzione dallo spinning dalla barca lo spinning sulle famose mangianze tombarelli palamite che noi abbiamo fuori porta in ogni momento praticamente dell'anno non ci dobbiamo dimenticare che ci possiamo possiamo affrontare con la pesca come vogliamo anche quindi molto molto più leggera rispetto alle attrezzature divertirci comunque anche con pesci che per forza di cose non devono essere decine e decine di chili quindi ricordiamoci che dalla pesca dalla barca si fa anche a light spinning volendo questa è una bella via di mezzo ormai sappiamo visto che non è uscito ieri che l'affidabilità c'è assolutamente al 100 per cento quindi questo è un oggetto secondo me veramente degno di nota lo trovate chiaramente ve l'ho già detto qua sotto linkato in descrizione vi do un voto perché questo oggetto si colloca nella fascia media e le cose medie a me non dispiacciono quasi mai perché i suoi 400 euro di media più o meno fa valorizzare e effettivamente 400 euro è giusto spesi spendere in questo oggetto sì perché le soluzioni tecniche ci sono i materiali ci sono la fluidità c'è l'affidabilità c'è quindi assolutamente questo oggetto vi devo dire che prendo un voto molto alto da parte mia questo è un oggetto che prende nove e mezzo assicurato assolutamente non ho trovato nulla che non mi piace in questo oggetto non ho motivo di dare un voto inferiore vi posso raccontare che sulla scatola la shimano rimettete di nuovo riassunto perché è molto più semplice e intuitivo ma la prendiamo solo come un assolutamente come una battuta quindi questo è un oggetto che mi piace molto a questo punto ragazzi siamo già andati troppo lunghi mi fa piacere se questo video vi ha fatto piacere continuate a seguirci sui nostri social mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate le notifiche condividete il video che è molto importante anche questo per noi ci vediamo alla prossima recensione a questo punto io e il twin power xd vi salutiamo mamma mia come fluido questo murinello e ci vediamo alla prossima recensione e che la pesca sia con voi grazie a tutti Grazie a tutti.